3 vittorie consecutive, non se ne parla dall'era Ranieri, quindi facciamo 2-3 anni fa un saluto a tutti gli amici del corner Sampdoria 2-1 qui l'analisi della partita, come al solito prima di cominciare, pollice in su, iscrivetevi, commentate fateci sapere la vostra nei commenti perché davvero vogliamo creare questo dibattito lo sapete, a noi piace sempre vedere un po' i punti di vista diversi delle persone anche perché la mia analisi di oggi secondo me va un po' controcorrente è una Samp che è scesa in campo con Valerio Verre, quindi siamo ritornati al 4-3-1-2 ed è una Samp che mi è piaciuta di meno rispetto a Modena sotto il punto di vista del gioco è una squadra che comunque ha faticato nei primi minuti a trovare le distanze poi una bella azione, un bel gol di De Paoli che porta la Samp avanti e la chiave di lettura della partita secondo me è stata quella cioè cercare di trovare il lato opposto rispetto al quale tu stai attaccando è una spezia che secondo me a livello difensivo scivola molto male è una spezia che ieri ha sofferto il pallone in area perché alla fine abbiamo avuto diverse occasioni in area di rigore basta pensare appunto al gol di De Paoli al secondo gol di De Paoli alla traversa di Esposito che se non è in area è poco fuori a Borini che non so come purtroppo mangia quel gol però una spezia che a livello difensivo secondo me fa molta fatica a discapito invece di un reparto offensivo che ieri non mi ha dispiaciuto è una spezia che comunque ha trovato il gol dopo il gol ha trovato una quadra interessante abbiamo visto degli scambi interessanti ci sono giocatori che secondo me sanno giocare molto bene a calcio basta pensare allo stesso verde che a me piace da morire Kouda che ha segnato il gol è un giocatore molto interessante il fratello di Esposito davvero anche Elia lo avevamo davanti noi un giocatore che deve migliorare come tutto la spezza perché è una squadra che secondo me a livello di organico è molto buona ma a livello mentale che alla fine quello fa la differenza l'abbiamo visto noi in primis deve ancora crescere dopo il gol tanti squilli della Samp una squadra che comunque a parte il gol secondo me non ha concesso molto ieri appunto quello di cui volevo parlare è essere Cineci sotto porta perché comunque è una squadra che ha tante occasioni a partita la nostra è una squadra che segna molto poco rispetto a quello che realmente potrebbe fare poi a fine primo tempo c'è l'espulsione di Andrea Pirlo che si arrabbia giustamente dopo un rigore netto non dato, un rigore netto l'arbitro Giulia ieri secondo me Giulia ha molto 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 lasciato a desiderare un arbitro che secondo me ha gestito male la gestione dei cartellini, la gestione della gara l'ha fatta anche innervosire per cui mi aspetto di vedere anche un po' più di cura ieri c'era anche Rocchio allo stadio per cui mi aspetto di vedere qualcosina in più non voglio parlare di arbitraggio comunque sappiamo che l'analisi sono attualmente al campo però mi sembrava doveroso anche fare un piccolo appunto sull'arbitraggio di ieri che poi in un certo senso è andato anche a condizionare alcune scelte secondo me ha fatto molto bene Pirlo, Baronio comunque Baronio secondo me ha dimostrato di sapere metterci la faccia molto bene l'ingresso in campo di De Luca che ti ha permesso di avere un po' più di profondità a discapito di un Verre che anche ieri a me non è piaciuto ma tra poco andiamo a parlare di singoli e poi nel secondo tempo una Samp che ha saputo difendersi bene abbiamo rischiato relativamente poco abbiamo trovato il gol del 2-1 con un super De Paoli e quindi finisce 2-1 abbiamo visto anche l'ingresso in campo di Marco Delemona e di questo sono molto contento un'atmosfera spettacolare con la cardinata nord piena anche nei distinti abbiamo visto una fluenza maggiore anche noi in tribuna ieri abbiamo visto molta più gente per cui siamo molto contenti di vedere questo comunque si vede che c'è molto entusiasmo per cui bisogna sfruttarlo 3 su 3 adesso ci sarà la partita contro il Brescia molto interessante di cui parleremo dopo ma adesso andiamo a vedere piano piano i singoli partiamo ovviamente da Stankovic che ha avuto una piccola precisione sul rilancio con il sinistro ma ieri io non mi sento di dare l'insufficienza un po' di dire che comunque ha detto la sua ha fatto due le uscite sul gol non so se l'abbia toccata però in caso l'avesse fatto riflessi strepitosi per poco non arriva anche sulla ribattuta di Codac riesce a segnare per cui molto bene continua il percorso di crescita suo così come continua quello di Facundo Gonzalez e di Ghilardi qualcosa da rivedere a livello di lettura ma ieri migliori in campo probabilmente così come De Paoli De Paoli ieri l'ho criticato diverse settimane fa me ne pento perché abbiamo visto un giocatore davvero rinato ha fatto prendere dei gialli incredibili specialmente a Cassata che doveva essere fuori ma anche questo è un altro discorso davvero ottima 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 prestazione da parte di Fabio De Paoli che sta crescendo veramente tanto non avrei mai pensato di vedere una crescita così esponenziale da parte sua molto bene mi aspetto qualcuno di più da Giordano che è un calciatore che secondo me fa ancora un po' di fatica a livello difensivo ma può crescere a livello offensivo ieri ha dato una grande mano centrocampo Ieri ha fatto una partita sterepitosa ha sbagliato penso due palloni poi a livello di lettura a livello di posizionamento di tekel di rottura delle linee di passaggio migliore in campo sotto quel punto di vista molto buona anche la prestazione di Casami da cui mi aspetto un po' più di fisico in mezzo al campo è stato spostato due o tre volte ma team non esiste tu sei hai quattro spalle abbiamo detto noi non ti devono spostare minimamente è buona anche la prestazione di Ronaldo Vieira che specialmente dopo l'uscita di Verre con la fascia davvero sembra che gli spintano di superpoteri una gestione della palla ottima ha usato molto bene anche il fisico per cui molto 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 buona la prestazione di Ronaldo Vieira un po' meno buona la prestazione di Verre un giocatore che continua a far fatica un giocatore che continua a non trovare la quadra forse l'unico in questa Samp che ieri non mi è piaciuto più di tanto forse insieme a Borini che ha avuto qualche acciacco fisico lo abbiamo notato anche quando è uscito si vedeva che comunque non stava al top secondo me ha sbagliato quel gol assurdo però a livello tattico è un giocatore che bisogna cercare di recuperare assolutamente e anche a livello psicologico ne abbiamo parlato anche in live è un giocatore che è fondamentale per questa Samp sta crescendo molto esposito che ha preso una traversa assurda corre tantissimo e questo secondo me vale più di mille parole per cui molto 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 contento di questa crescita anche da parte sua e con il rientro di Pedrola secondo me ci possiamo divertire veramente tanto adesso possiamo parlare di De Luca che è entrato abbastanza bene ma è ancora un po' macchinoso ma lo sappiamo mi aspetto un pochino di personalità da parte delle Monache è un giocatore che secondo me a livello prettamente tecnico di personalità è un fuoriclasse per cui bisogna aspettarlo poi degli altri subentrati si può dire poco a livello tattico sono soddisfatto di come è stata preparata la gara anche se avrei cercato un po' più di ampiezza però davvero siamo sulla strada giusta assolutamente adesso la partita di liberation è molto importante fare 4 su 4 sarebbe spettacolare a livello di classifica abbiamo dato dei segnali ma bisogna continuare a farlo senza continuità come dice Andrea Piero giustamente non si va da nessuna parte per cui testa ancora partita dopo partita il Brescia è una squadra che secondo me non è malvagia a livello offensivo ha due giocatori molto interessanti per cui è una trasferta ostica anche questa speriamo di recuperare i benedetti Pedrola che sarebbero degli elementi fondamentali per il futuro del Rassam però per adesso molto 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 bene se vi è piaciuta l'analisi pollicione in su iscrivetevi commentate mi raccomando seguiteci anche su Instagram corner trattino basso Sampdoriano da Mattia è tutto da corner è tutto sempre Forza Samp